Qui, in cima alla mole, un genio alato portava sulla testa una stella. L'11 agosto 1904, un uragano piegò la statua che fu sostituita con una stella a 12 punte. Il 23 maggio 1953, un ubifragio spezzò la goglia che con la stella cadde e si frantumò. Il 31 gennaio 1961, una nuova stella a 12 punte tornò a svettare sulla mole. Un dodecaedro, simmetrico, misterioso. È nata una stella. Il nuovo simbolo del Torino Film Festival ne diventa anche il premio. Un rinnovamento d'immagine che proietta nel futuro la prestigiosa tradizione del Torino Film Festival. Un rinnovamento d'immagine che proietta nel futuro la prestigiosa tradizione del Torino Film Festival.